Per tornare da Alex Kazan, contiene Hopkins, prova a lavorare sul perimetro della formazione ariearina, tiro da tre punti di Jason Granger, altra tripla, tre canestri, tre tre. Lavorare a due, sempre con Micheluot che riceve ribaltamento di lato per Moraschini, muove molto bene il pallone, step laterale da parte di Granger, tiro da tre punti di Jason Granger, buon movimento di palla di vento. Secondi è lontano dal bersaglio, la Reire m'attacca con Granger che si arresta, si prende un tiro da due punti, Jason Granger prova a lavorare a due con il suo centro, stoppata da parte di Watt con Venezia che è in contropiede contro zero, due punti facili facili, 5-0 di Breck per la Reire in apertura di questo secondo. Proverà a giocarsi da lui, cambio difensivo di reggio con Rivers. Lo può attaccare ma sceglie di tirare da tre. E lo fa la grande, Jason Granger, tre punti che assomigliano tanto a quelli della staffa.